Seguendo i consigli di un amico, Emanuele, sono riuscito a prendere su ebay un pezzo abbastanza particolare e raro. È un custom, apribile ad una mano, di David Mosier. Il modello è un grosso folder tattico, le guancette sono in fibre di carbonio, c'è una clip in acciaio non reversibile. Il coltello è fatto in maniera artigianale, fatto a mano. Molto bene. Come dicevo, è un grosso folder. La lama presenta una leggerissima segretatura alla base. Qui c'è la sigla del costruttore. La lama è in ATS 34. C'è un falso controfilo. La lama è anche abbastanza spessa. C'è un leggero rialzo di grinato per facilitare l'impugnatura del pollice. Il sistema di sicurezza è il linear lock, che come vedete finisce completamente nel mezzo del tallone della lama. L'apertura è molto veloce. Il coltello è davvero ben fatto. A presto. Grazie a tutti